Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano quest'oggi la scuola perché arriverà a strettissimo giro la firma, l'ordinanza che a partire dal primo febbraio riporterà il 50% degli studenti pugliesi all'interno delle scuole. Tutto invariato invece per la prossima settimana. Il punto nei nostri servizi. Ci sarà un ritorno alla didattica in presenza per il 50% degli studenti, anche per le scuole superiori, ma tutto slitterà a lunedì primo febbraio. I tempi sono troppo risicati per consentire alle scuole una corretta organizzazione. La Regione Puglia consente quindi e accoglie le istanze dei sindacati e presidi e posticipa di una settimana il cambio di passo. Fino al primo febbraio quindi tutto rimane così com'è. Studenti delle superiori in DAD e al primo ciclo la scelta tra presenza e didattica digitale integrata. Oggi la firma della nuova ordinanza che si dividerà sulle due settimane a cui si riferisce. Dal primo febbraio quindi si torna a scuola, anche se al momento resta il nodo del turno unico, come richiesto a gran voce soprattutto dall'associazione che riunisce dirigenti scolastici, che allontanano del tutto l'idea degli ingressi scaglionati. A favore di questa linea l'assessore regionale all'istruzione, Sebastiano Leo, non è un problema legato ai trasporti, spiega, ma di organizzazione dei docenti. Lo scheletro dell'ordinanza è quindi questo, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire con i sindacati. Altro nodo da sciogliere e terreno di forti polemiche resta la possibilità di lasciare ai genitori la scelta di mandare o meno a scuola i figli. Lasciando tale opzione alle famiglie, si legge nel comunicato congiunto dei sindacati, si costringono le scuole ad affiancare alla didattica in presenza anche la didattica digitale integrata, espletata in modalità sincrona per un tempo pari all'intera giornata. Un modello che sta sfiancando inutilmente il personale scolastico, abbassando la qualità della formazione e dell'istruzione. Se l'indicazione non dovesse essere accolta, i sindacati si dichiarano pronti alla mobilitazione. Difficile infine che i TOS, i team che riuniscono operatori scolastici e sanitari, possano essere operativi già dal primo febbraio. In regione infatti sono ancora in corso di studio le osservazioni presentate dagli stessi sindacati. La delibera dovrebbe approdare in giunta la prossima settimana. La scelta di limitare al 50% dei ragazzi delle scuole superiori la didattica in presenza e in un unico turno non dovrebbe creare alcun tipo di problema sul fronte trasporto pubblico. Lo assicurano dal tavolo di coordinamento istituito in prefettura per il rientro in sicurezza degli studenti negli edifici scolastici. Qualche criticità potrebbe invece emergere qualora si decidesse di lasciare ai genitori la scelta sulle modalità di didattica. La discrezionalità infatti potrebbe pesare sull'organizzazione. Una volta partiti, fanno sapere ancora, valuteremo poi la questione linea. Sui finanziamenti, la Regione Puglia ha comunicato giorni fa all'assessore regionale ai trasporti Anita Mauro di Noia ha approvato lo stanziamento di 3,3 milioni di euro prelevandoli dal proprio bilancio con l'obiettivo di attivare i servizi agentivi di trasporto in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza così come programmati nei documenti operativi disposti dalle prefetture. A questo proposito è in corso la stesura degli atti di affidamento aggiuntivi ai contratti di servizio vigenti con le imprese di trasporto esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionali. E ancora Focolai nel RSA. Andiamo subito a Bitonto dove ci colleghiamo con il nostro Roberto Maggi per fare il punto della situazione. Bentrovato Roberto. Sì, bentrovata a te Serena. Allora, sì, hai detto bene, siamo a Bitonto, siamo davanti a un RSSA, la Giovanni XXIII di Bitonto. Una delle due strutture interessate su Bitonto da alcuni contagi, in particolare in questa struttura il numero dei contagi è abbastanza importante perché parliamo di 86 pazienti positivi e 14 operatori. Stiamo parlando di una struttura comunque molto grande e quindi anche per questo i numeri sono legati appunto al numero di pazienti che sono ospitati all'interno di questa struttura. Tra l'altro è un focolaio che si aggiunge ad altri focolai già attivi e che purtroppo risalgono invece alla fase precedente, per esempio quello di Gioia del Colle dove salgono a tre il numero di anziani deceduti all'interno della padre Semeria, per l'appunto lì siamo a Gioia del Colle. Qui invece dicevamo la conta e questa oltre 100 positivi. Allora ascoltiamo le parole del sindaco di Bitonto a Baticchio che si è espresso ieri sera in una diretta Facebook, per ora non può parlare perché comunque c'è anche una questione legata alla privacy degli utenti che sono all'interno della struttura. Quindi ascoltiamo la sua diretta Facebook di ieri sera. Parliamo soprattutto nel riferimento a Villa Giovanni XXIII di una struttura storica per la nostra comunità che ha tante influenze anche all'esterno della comunità stessa, tante ricadute all'interno perché ci sono molti operatori che lavorano lì all'interno. Entrambe le strutture presentano ospiti in condizioni fisiche sicuramente non solide, non forti e pertanto dovute anche ovviamente all'età. Ho letto di alcuni commenti, commenti devo dire molto sgradevoli nei miei confronti in riferimento a una presunta capacità dei sindaci, potere dei sindaci di attribuire e determinare il vaccino addirittura a chi darlo prima o a chi darlo dopo. Il vaccino viene dato secondo le disposizioni di legge e in questo momento non servirebbe nei due casi di cui stiamo parlando, perché in questo momento serve massima cura e massima attenzione sanitaria per gli ospiti e per gli operatori. Ovviamente in questo momento c'è grande attenzione soprattutto sulle vaccinazioni, perché? Perché trattandosi questo di un contagio da individuare nella terza fase della pandemia ovviamente è importante cercare di tenere sotto controllo e aumentare il più possibile la copertura delle vaccinazioni nell'RSA, in questo caso non c'era stata copertura vaccinale, è ovvio. La preoccupazione ovviamente è quella legata alle dosi, c'è un meccanismo che si è attivato di solidarietà tra le regioni, quindi le regioni che avevano più disponibilità vaccinale tra le scorte stanno provvedendo a smistare e anche a distribuire alcuni vaccini, a rinunciare a un po' di quote per alcune regioni. Così è stato in favore della Puglia che avrà una riduzione sicuramente delle vaccinazioni per le prossime settimane, ma dovrebbe arrivare ad avere 15.210 dose vaccinali in più proprio per riuscire a coprire completamente almeno questa prima fase, soprattutto con le seconde dosi. Per ora da Bitonto è tutto linea allo studio. Grazie a nostro Roberto Maggi continueremo ovviamente ad aggiornarvi sia sul fronte focolaio a Bitonto che ovviamente sulla questione vaccini. Intanto noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, c'è anche Massimo Cassano, direttore dell'Agenzia regionale per le politiche del lavoro, tra i cinque indagati per presunta bancarotta fraudolenta da 8 milioni di euro perpetrata tramite la Work System, società che gestiva un deposito franco doganale nel porto di Bari. A darne notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Al centro dell'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal PM Giuseppe Dentamaro, c'è dunque il fallimento dell'azienda, conclamato nel 2016, di cui Cassano è stato amministratore dal 2002 al 2008. L'indagine mira a far luce su presunti illeciti legati al mancato pagamento IVA da parte della società. E adesso per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Ciao Tiziano. Sì, Serena, buon pomeriggio. Siamo nella sezione cronaca del nostro sito internet per raccontare di un vero e proprio arsenale da guerra scovato dalla polizia Bari. Armi ed esplosivi erano nascosti a ceglie all'interno di un box di un garage condominiale insieme a 45 kg di droga e a 12 mila euro in contanti. L'operazione, che ha portato all'arresto di tre incensurati, è partita da una soffiata raccolta dagli investigatori relativa all'arrivo in città di un importante quantitativo di sostanza stupefacente, droga che stando alla segnalazione sarebbe stata trasportata da un insospettabile a bordo di un pulmino bianco per il trasporto di persone. Intercettato il veicolo sulla statale 16, quindi i poliziotti sono arrivati fino al garage di Ceglie. Lì, oltre alla droga, erano nascoste anche 10 pistole, 2 mitragliette Scorpion, un mitragliatore calibro 9, un fucile a canne mosse, 14 esplosivi artigianali e oltre 700 munizioni. I tre arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Bari, mentre sono ancora in corso accertamenti per capire se il materiale sequestrato sia riferibile o meno a uno dei clan della città. A te. Grazie a Tiziano. Noi andiamo avanti e continuiamo con la cronaca. Invesse un agente della polizia locale e scappa per evitare il verbale. È accaduto questa mattina in via Manzari a Ceglie del Campo una pattuglia che era impegnata nel servizio antidegrado per la lotta all'abbandono irregolare dei rifiuti ha fermato una autovettura il cui conducente era sceso dal veicolo abbandonando una busta di rifiuti vicino ai cassonetti stradali. Dopo l'intimazione al fermo del veicolo con regolare paletta distintivo e dichiarazione della qualifica, l'uomo improvvisamente ha ripreso la marcia con il mezzo investendo violentamente l'agente, tralasciando per alcune decine di metri sul selciato dopo averlo caricato sul cofano e parabrezza dell'autovettura, dandosi poi alla fuga. L'agente ferito e sanguinante è stato trasportato al policlinico in codice rosso dove è tuttora in trattamento e sotto osservazione. Immediate le ricerche attivate dalla polizia locale di Bari che hanno fermato la vettura e l'uomo nei pressi del porto di Bari verso le 9 circa è tratto in arresto. L'uomo incensurato, 44enne, risponderà dei reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni aggravate, tentato omicidio, fuga e omissione di soccorso. E cambiamo argomento e parliamo di mercato dell'auto. Il governo ha rinnovato nel 2021 gli incentivi per la rottamazione e grande attenzione soprattutto per le auto elettriche. Dopo il successo ottenuto con gli incentivi auto 2020, il governo ha confermato l'arrivo di nuovi incentivi per l'acquisto di auto nuove anche nel 2021. Il totale per questa seconda tornata di agevolazioni ammonta 420 milioni che verranno suddivisi in tre fasce di emissione di anidride carbonica. Gli incentivi saranno naturalmente validi fino ad esaurimento fondi o comunque fino al 30 giugno 2021 per le auto nella fascia di emissioni 61-135 grammi per chilometro e al 31 dicembre 2021 per quelle nella fascia 0-60. A tutto questo si aggiunge un'interessante agevolazione pari al 40% del prezzo di acquisto per le vetture a emissioni zero rivolte ai cittadini con ISEE inferiore a 30 mila euro anche senza rottamazione. Il bonus potrà arrivare fino a 10 mila euro. Si va dalla fascia 0-20 come emissioni, quindi parliamo di elettrico, arriviamo fino a 10 mila e 500 euro di contributo tra rottamazione e sconto. Invece per quanto riguarda le autovetture benzina o diesel il contributo è sempre di 1.500 euro per un'autovettura da rottamare che supera chiaramente i 10 anni. Eppur nel rispetto delle limitazioni imposte dal governo sarà possibile usufruire di questi sconti anche nel fine settimana da domenica al Volkswagen e Zentrum dalle ore 10 alle ore 13. Abbiamo tutta la gamma Volkswagen in promozione dalla app T-Roc, T-Guan dove oltre chiaramente a riconoscere il contributo statale di 1.500 euro, Volkswagen e Zentrum diamo degli sconti ulteriori. Siamo aperti anche domenica mattina, se volete approfittare vi aspettiamo. E siamo alla nostra rubrica dall'area metropolitana. Da qualche giorno si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico regionale per la cura, la xylella fastidiosa di cui fa parte il professor Vito Nicola Savino, già preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, lo ha incontrato per noi Francesco Russo. Sentiamo. Professor Savino, come contrastare il batterio, come rallentare l'avanzamento nella nostra regione e nel nord barese? Lei ha detto bene come rallentare la diffusione, perché l'unica possibilità che abbiamo è quello di rallentare la diffusione. C'è una normativa vigente che sinteticamente prevede che entro in mesi di aprile bisogna arare, diciamolo proprio brutalmente, i terreni, perché sulle piante spontanee ci sono le fasi giovanili e quindi con queste lavorazioni di aratura, fresatura, eccetera, noi lo eliminiamo. E poi la norma prevede di fare anche due trattamenti sull'olivo. Come la tecnologia può sopportare e aiutare l'attività di tracciamento e di contrasto del batterio? Soprattutto con la diagnosi. Da momento in cui una pianta si infetta, a momento in cui vengono fuori i sindaci, a momento in cui è rilevabile con le tecniche, soprattutto con quelle sierologiche, diciamo quasi di ieri, perché da oggi è imposta la diagnosi molecolare, che è molto più sensibile, però ci vuole certamente dei mesi. Quindi se riusciamo a individuare delle tecniche che ci consentono di anticipare quest'anno di guagnare, sembrerebbe che qualche cosa all'orizzonte ci sia. Rendere l'area murgiana a deposito di scoria e nucleari il punto nel servizio di Michele Denora. Onorevole, come si sta muovendo l'area murgiana in seguito alla identificazione della stessa come zona potenzialmente idonea a deposito di scorie nucleari da parte della SOGIN? Finalmente questo governo ha reso pubblica questa carta che è stata tenuta all'oscuro di noi cittadini sino ad oggi. Ora è partita la fase di consultazione pubblica, dove i soggetti del territorio si uniscono e scrivono una relazione, un documento con informazioni tecniche e scientifiche per indicare se il nostro territorio è idoneo o meno a cogliere un deposito nazionale. È stato deciso di coinvolgere il territorio e tutti i soggetti che ne fanno parte. Inoltre il Movimento 5 Stelle Camera sta lavorando un atto normativo per allungare i tempi della consultazione pubblica e per aumentare il numero di soggetti da coinvolgere. Il deposito in questo territorio che non è specifico all'interno del parco dell'Altamurgia ma in un'area vicina, contigua, sia un luogo non idoneo ad accoglierlo per l'attenzione al turismo che ha questo territorio, per la vocazione agropastorale, per i siti culturali e archeologici. Tutte queste motivazioni e tante altre tecniche scientifiche ci dicono che questo non è il luogo adatto per accogliere un deposito nazionale di scorie nucleari. Noi siamo in chiusura come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet Il meteo è offerto da Oropan Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà ancora molta variabilità sull'Italia per la presenza di questa zona di bassa pressione e questo flusso di correnti umide occidentali abbastanza teso che appunto porta degli annuvolamenti alternati comunque anche a delle schiarite. Guardiamo infatti le nuvole previste sull'Italia vediamo ancora vari ammassi nuvolosi sul nostro paese ma come vedete di tanto in tanto spuntano anche delle macchie verdi quindi un po' di sereno, un po' di cielo azzurro lo vedremo e come però varia vita sarà davvero la parola d'ordine e controlliamo le piogge a tese sull'Italia perché ancora qualche piovasco ci sarà soprattutto stavolta nelle regioni meridionali Basso Tireno ma anche l'Italia centrale verrà coinvolta da alcune precipitazioni intanto vi preannuncio domenica al centro-sud piogge diffuse quindi in definitiva sabato molto variabile qualche schiarita però si farà avanti in giornata da prima nelle regioni settentrionali a cominciare da quelle di nord-ovest qualche schiarita anche sul versante adriatico le zone in cui la probabilità di pioggia resta un po' più alta sono quelle tirreniche in particolar modo il Basso Tireno però guardate temperature ancora abbastanza mite al centro-sud sfioriamo anche i 15 gradi e qualche grado lo guadagniamo anche al nord per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Il meteo è offerto da Oropan